Attilio e Elena, siete venuti a montare il matrifondo senza alcuna costruzione, in piena e in realtà è consapevole del significato della vostra decisione? Sì. Sì. Io ammigo a cui poteriva in ogni asforza. Con la grazia di Cristo prometto di esserti per esempio, della gioia del dolore, della salute e della malattia, e di amarmi alla latte e di gioia della mia vita. Sì. 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 Sì.